Notturna di San Giovanni, l'appuntamento che torna, la classica del podismo toscano, la agonistica per eccellenza. Giancarlo Romiti, il presidente del comitato organizzatore Firenze Marathon. Allora, eccoci, ci siamo a questa 79esima edizione della classica dell'Atletica Leggera competitiva, diciamo, 10 chilometri misurati e fanno parte del circuito 10K della Federazione Atletica Leggera. Il percorso è quello classico, notturno, con pertenza alle 21 da Piazza del Duomo per fare un percorso cittadino, come solito bellissimo, fra l'atmosfera serale, il tanto pubblico e la realtà della nostra bellissima città. Il percorso è chiaramente agonistico, di 10 chilometri per atleti, ma c'è anche una non competitiva di misura ridotta per family run, diciamo noi, dove è possibile partecipare tutti, ma proprio tutti, perché è una realtà culturale importante per la nostra città che celebra appunto l'apertura delle feste del Santo Patrono. Il 79esimo notturno di San Giovanni, di conseguenza ci si può iscrivere ancora fino a venerdì nei punti indicati dal regolamento per la parte agonistica, della partenza, mentre fino a un'ora prima della partenza ci si può iscrivere per la non competitiva. Diciamo che la partecipazione sarà numerosa, saremo circa 2.000 partecipanti anche quest'anno, per tutti una bellissima maglia esclusiva fatta da un maestro fiorentino di disegno e ecco, questa è la situazione, una bella realtà che sicuramente tutti aspettano appunto proprio per la tradizione. Novità significative non ce ne sono a livello di evento, proprio per la tradizionalità dell'evento. Certamente ogni anno si rinuova l'atmosfera insieme al nuovo stile appunto organizzativo delle maglie e dell'accoglienza anche nell'ambito di Piazza San Giovanni appunto per la celebrazione del Santo Patrono. Il saluto, il benvenuto, il messaggio dell'assessore allo sport del Comune di Firenze, Andrea Vannucci. La manifestazione è molto bella, la notturna di San Giovanni, una delle corse più antiche d'Italia, un tuffo nel cuore della nostra città, un tuffo in notturna nel cuore della città, si parte e si arriva all'ombra, anche se a quell'ora l'ombra non ci sarà, del Duomo e del Battisterio, una manifestazione che ogni anno viene sempre vista da tanti podisti come un appuntamento immancabile, un appuntamento immancabile perché è dotato di un fascino unico e anche di una partecipazione di altissimo livello che fa sempre segnare ottimi tempi per quanto riguarda i primi arrivati che chiudono sempre intorno alla mezz'ora. Ma nonostante questo è una corsa aperta a tutti, in cui tutti possono partecipare, c'è anche una gym che quindi insomma è una bellissima festa dello sport nel solco e nella tradizione che Firenze Marathon ci ha insegnato ad amare in tutti questi anni di attività sul territorio. Eccoci, allora ricordiamo che le iscrizioni online per la notturna di San Giovanni si chiuderanno questa notte a mezzanotte di giovedì 14 giugno, mentre per quanto riguarda quelle negli store si chiuderanno alle 18 di domani sera, venerdì 15 giugno. E poi mentre le iscrizioni per la ludicomotoria è possibile iscriversi fino a mezz'ora prima della manifestazione, ovvero di sabato 16 giugno. L'altra notizia molto molto importante da dare è che la gara, la 79esima edizione della notturna di San Giovanni, andrà in diretta a Facebook sulla nostra pagina Facebook di Runners e Benessere e anche sulla pagina Ciac Dirette Running. Quindi collegatevi e seguitici che sarà tutta da vedere. Grazie.